Musica Benvenuti al nostro TG Sport cari amici di Telemolise per il campionato di Serie D. Il cambio di modulo ha dato i suoi frutti. Domenica il Campobasso ha conquistato tre punti importanti contro il Castelfidardo. Tre punti che fanno classifica e anche morale. Adesso c'è bisogno che il pubblico arrivi in maniera più consistente al Selvapiana. L'arrivo di Massimo Silva sulla panchina del Campobasso ha dato sicuramente una scossa soprattutto sotto il profilo del modulo. Infatti con Novelli la squadra giocava con un 4-3-3 che aveva dimostrato parecchie lacune. Mentre il nuovo tecnico Rosso-Blu ha subito cambiato modulo. Ha fatto giocare un 3-5-2 con due esterni fuori quota come Corbo e Frezzi che hanno dato il loro contributo. E quindi in sostanza si è notato certamente un miglioramento. Anche la novità di Iaboni polo basso del centro campo Rosso-Blu ha dato certamente i frutti sperati. Perché Iaboni ha sicuramente piedi buoni. Quindi sembrava l'unico in grado evidentemente al nuovo tecnico Rosso-Blu per effettuare lanci di una certa portata in avanti. Per cercare comunque di lanciare gli attaccanti e quindi di scardinare le difese avversarie. Anche questo esperimento dobbiamo dire che è riuscito, ha visto giusto Massimo Silva, almeno per quel che riguarda la partita disputata contro il Castelfidardo. Iaboni ha avuto un piccolo calo nel finale, anche comprensibile, ma in generale ha disputato un'ottima partita. Per quel che riguarda dunque la gara in programma domani pomeriggio a Selvapiana, partita di recupero contro la Jesina, molto probabilmente Silva si affiderà ancora ad un 3-5-2. Bisognerà cambiare qualcosa, gioco forza perché Corbo è stato squalificato, è fermo anche Pitelli. Però c'è la novità del ritorno a Campobasso di Fioretti, quindi sicuramente il tecnico dovrà aggiustare la squadra anche in considerazione di questi presupposti. L'unica cosa che comunque a nostro avviso deve migliorare è l'affluenza di gente al Selvapiana, perché evidentemente questa società ha creato un po' di scollamento, la gente si è allontanata perché evidentemente non ha creduto affidabile la società in cui è entrato a Liberti, che poi a un certo punto si è dichiarato semplice consulente della società Rosso Blu, ma insomma al di là dei problemi societari che a nostro avviso restano e sono anche problemi seri e pesanti, la gente a nostro avviso, questo l'abbiamo sempre sostenuto, la gente, i tifosi devono comunque affluire in maniera numerosa allo stadio per cercare di salvare la squadra, di aiutare la squadra a conquistare una posizione di classifica più soddisfacente al di là dei problemi societari. A nostro avviso c'è bisogno che i tifosi diano una mano alla squadra per cercare di uscire dalla zona rossa della classifica. Domenica scorsa il pubblico presente lo ha fatto, non erano in molti, ci auguriamo che domani pomeriggio saranno molto di più, molti di più, anche perché come ribadiamo è determinante l'apporto dei tifosi per aiutare la squadra in un momento sicuramente difficile del suo campionato. Domani dunque si torna in campo per recuperare la ventesima del torneo, Campobasso-Jesina, Rosso-Blu che dovranno fare a meno, come dicevo, di Corbo e Vitelli, entrambi squalificati. Domani Campobasso e Jesina a confronto. I marchigiani evocano ricordi piacevoli ai Rosso-Blu che proprio nelle Marche nel girone d'andata trovarono il primo successo stagionale. Era tutta un'altra storia, adesso il pensiero è proiettato da parte campobassana a proseguire la striscia positiva aperta due giorni fa contro il Castelfidardo. A proposito, la sconfitta del Castello a Selvapiana è costata la panchina Cappellacci che è andato così incontro al secondo esonero consecutivo. Pensate, lo scorso anno il tecnico abruzzese fu sollevato dall'incarico dal Campobasso dopo dieci turni, anche se il rischio di essere cacciato lo corse anche prima. A Castelfidardo la sua avventura da tecnico è durata appena sette turni di campionato. Insomma, crediamo che Cappellacci abbia bisogno di una lunga pausa di riflessione prima di accettare se dovesse arrivare un nuovo incarico da allenatore. Meno spiegabile l'esonero di Gianluca Colavitto a Vasto dopo la sconfitta di Recanati. La vastese ha 32 punti ed è in piena zona playoff. A rimpiazzare Colavitto è andato l'ex allenatore del Campobasso Massimiliano Favo. Tornando in casa Rosso-Blu c'è da registrare il ritorno nei ranghi da parte di Fioretti che dovrebbe aver ricucito così il suo rapporto con la società Rosso-Blu. Domani sarà a disposizione del tecnico e probabilmente sarà gettato nella mischia dal primo minuto. Silva dovrà fare a meno degli squalificati Vitelli e Corvo, quest'ultimo classe 98 che sarà verosimilmente rimpiazzato da Martinelli, suo parietà. Verrà confermato il modulo a tre difensori con il centrocampo più robusto. Non si può escludere che venga avanzato a destra fra botta come cursore per fare posto in difesa proprio a Martinelli. Per la cronaca è stato fermato per un turno anche il tecnico Massimo Silva. Domani la squadra verrà guidata dalla panchina da mister Giovanni Piccirilli. Campobasso Jesina verrà diretta a partire dalle ore 14.30 dal signor Tciato della sezione di Aprilia. Al termine della partita di domenica abbiamo avvicinato l'autore del raddoppio Germano. Sono contento per il gol, ho fatto un bel gol. Lo dedico a mia madre che è in Brasile tra tre giorni al compleanno suo. Contento per la squadra pure che ha combattuto su un campo pesante. E i tifosi che sono venuti di più. Diciamo sofferenza relativa perché il Castelfilardo si è riversato nella vostra metà campo nel secondo tempo. Eravate con un uomo in meno però non si è avvertita questa differenza di uomini obiettivamente. Abbiamo fatto bene con dieci giocatori. È difficile combattere con meno uno però Invisci ci ha chiesto per luttare lì davanti. Perché sono entrato come prima punta. Non sono il primo punta però sono felice perché ho fatto bene. Adesso c'è subito la chiesina quindi poca possibilità per gioire per questa vittoria. Poco tempo per gioire. Adesso cerchiamo di riposare un po' e pensare solo alla chiesina mercoledì in casa. Match casalingo anche per l'Olimpia agnonese che ospiterà il Pineto per finire in campo domani pomeriggio anche Matelica San Nicolò. Si è disputata domenica la finale della Coppa Italia regionale. Due comuni della provincia di Senni a contendersi il titolo. Il presidente del Macchia e del Vasto Girardi ai nostri microfoni. Mario Mariani finalmente è arrivata la vittoria tanto sperata. Sì effettivamente ci abbiamo puntato. Di fatti penso che la partita l'abbiamo meritata. La squadra nel Coppa Italia, questa è la decima partita, non ha perso una. Era pure giusto coronarla con una vittoria finale. Certo il Vasto Girardi chiude in nove. Riguardando le tue espressioni cosa ne pensi? Ma vedi l'espressione si è avvenuta in un momento forse che già la partita era compromessa. Anche perché noi come avete potuto notare abbiamo mancato qualche occasione d'oro. Però va bene così. Certo un paese come Macchia sta diventando una squadra pazzesca. Ma tutto ciò si programma nel mese estivo, cioè il maggio, giugno. Non è che si può fare qualcosa nel corso del campionato. Noi insieme allo staff tecnico abbiamo cercato di mettere insieme un gruppo di persone che rispondevano alle nostre esigenze. E in grazie di Dio ci stanno dando frutto. Tornando comunque alla gara, campo molto pesante, ma avete retto bene? Chiaramente il timore nostro era del campo perché abituati sul sintetico la squadra come sapete è molto leggera e loro sono fisicamente più forti però hanno risposto con grinta e con cuore, quello è importante. Adesso resta il campionato? Sì, adesso per coronare la stagione speriamo di portare a termine anche il successo in campionato. attualmente la squadra si sta comportando bene, c'è cinque punti sulla seconda e vediamo il seguito che succederà. L'ultima domanda che volevo porti, adesso siete la squadra che rappresenterà la regione molise in Italia. Ma io penso che o vincevamo noi o il vasto Girardi o due squadre che fuori territorio possono dire la loro parte, rappresentano bene il Molise e penso che potranno dire la sua a prescindere chi toccherà nella fase successiva. Presidente, l'anno scorso la vittoria, quest'anno una sconfitta, è chiaro che a freddo è sempre difficile commentare, questo bis purtroppo non è uscito. È il calcio, una volta si vince, una volta si perde. Sicuramente non fa piacere ma ne prendiamo atto. La squadra non ha espresso il gioco che sa esprimere, oggi molto contratta, molto male il primo tempo, un errore gli ha spianato la strada, loro sono stati bravi a interpretare la partita, a interpretare il campo. Diamo atto che Mike ha giocato meglio di noi oggi. Comunque resta la soddisfazione perché anche quest'anno si è raggiunto questo obiettivo. La soddisfazione è che anche quest'anno vasto Girardi ha giocato la finale, anche quest'anno un'intera comunità è venuta con noi qui a Iserni allo stadio, eravamo tantissimi e questa è l'unica cosa che mi dispiace, non aver potuto gioire di nuovo insieme a loro. Spero di potergli dare io, la squadra e il mister qualche soddisfazione in campionato perché noi siamo lì, siamo vivi, anzi da domani mattina si riparte, si riparte con più carica, più grinta perché a tutti i costi vogliamo ridurre il gap proprio con macchia e cercare di vincere il campionato. Domani verranno recuperate tre gare in eccellenza, alle 15 Venafro Cliternina, Spinete, Vasto Girardi, mentre alle 18 Campobasso 1919 Macchia. A proposito dello Spinete, il capitano. Michele Ediamente, difensore centrale dello Spinete, eravate partiti bene, cosa è successo? Hai detto bene, abbiamo partito bene, siamo passati pure in vantaggio, poi è stata una partita un attimino caratterizzata un po' dagli episodi, perché il primo tempo sull'1-0 potevamo raddoppiare in più di un'occasione con Fraraccio e Contropiede, poi uno sbagliato difensivo, è arrivato il pacheggio loro e lì la partita si è un attimino complicata. Secondo tempo la stessa cosa, su un disimpegno errato di un nostro difensore hanno fatto il 2-1, a quel punto poi la partita è finita. Siete rimasti sempre a 17 punti, ma comunque c'è ancora tempo. Sì, sì, no, ma sicuramente non sono queste le partite magari dove dobbiamo fare per forza punti. Il disegno, anche se veniva da qualche risultato poco felice, comunque è una squadra che ha 20 punti in più di noi, quindi giocando in casa ce la dobbiamo giocare con tutti, ma sicuramente le partite dove non possiamo sbagliare non erano certe questa. Per il torneo di promozione si recupera la prima di ritorno. Domani pomeriggio Boiano-Frentania, Castelmauro-Vulcania, Sant'Eliana-Matese, tutte in campo alle 15, mentre Molise-Maronea inizierà alle 18. A proposito del Molise, Amorosa. Nicola Amorosa, attaccante del Molise, dunque arriva una sconfitta pesante, una partita forse una delle più brutte prestazioni vostre finora dopo un ottimo campionato per ora. Sì, può darsi, nel senso che comunque sono d'accordo con te, ma diciamo che soprattutto all'inizio della partita è stato condizionato da un, oltre che il campo, come era per loro, era anche per noi, però dal tempo, un vento che non ci permetteva di giocare. Sicuramente poi al secondo tempo noi ce l'avevamo a favore, anche se era leggermente calato, però loro sicuramente sono stati più bravi a sfruttare poi l'unica palla goal che hanno avuto davanti alla porta. Eravate reduci dal pareggio un po' che vi dà un buon fastidio, possiamo dire, del cerce maggiore ottenuto alla fine con un gol di tedesca al 92esimo. Adesso si torna sul vostro campo, arriva il baranello, poi il recupero, come dicevi tu, partite ravvicinate stancanti, però sono importanti perché possono muovere la classifica definitivamente, in positivo o in negativo? Sì, questo è sicuramente uno dei motivi per il quale noi stiamo un po' pesantucci, proprio perché abbiamo fatto un lavoro durante queste, tra virgolette, vacanze forzate. Penso che adesso, con il recupero di mercoledì, adesso con la Maronea, dovremmo sicuramente essere più brillanti. Poi sul campo nostro, ripeto, noi abbiamo veramente una marcia in più. E niente, te lo ripeto ancora, dobbiamo sicuramente fare tre punti mercoledì perché ci servono, sono fondamentali e siamo sicuri di poterli fare. Ultima cosa, a livello personale, ti senti soddisfatto di quello che hai dato finora e di quello che devi dare ancora? Io dico che non si smette mai di impegnarsi e di lavorare perché non posso mai essere soddisfatto. Fin quando la squadra non esce fuori dalla zona calda, che poi è l'obiettivo principale, non mi ritengo soddisfatto. La cosa personale deve venire come seconda cosa, in seconde linee, però noi adesso dobbiamo uscire dalla zona, nel momento in cui usciremo dalla zona calda e quindi potremo provare a divertirci poi, allora lì sarò soddisfatto. Reduce dal pareggio nel recupero con il Rocca Sicura, il Baranello domenica sarà ospite del Molise. Mister Di Chiro, un pareggio che fa comunque morale anche classifica. Assolutamente, anche perché il campo ha rispecchiato questo, eravamo ben consapevoli di affrontare una gara difficile contro una squadra esperta, di categoria, in salute, nonostante questi problemi che ci ha creato la neve un po' a tutti. Ripeto, sapevamo che sarebbe stata una partita difficile, il campo ha dimostrato anche che il 2-2 è un risultato giusto. Prestazione della sua squadra nel complesso positiva, cosa le è piaciuto di più? Sì, abbiamo disputato una buona gara, abbiamo, secondo me, un po' sbagliato le giocate di rifinitura. Negli ultimi 20 metri siamo stati spesso frettolosi ed imprecisi, anche perché ci siamo arrivati parecchie volte e abbiamo sfruttato male le occasioni. Dovremmo lavorare un po' con più tranquillità anche in settimana per migliorare questo aspetto. L'obiettivo del Baranello da qui a fine campionato? Dobbiamo assolutamente fare i punti necessari che ci facciano acquisire la salvezza matematica. Poi vediamo, anche perché siamo in una posizione, tra virgolette, ibrida, dove le squadre che lottano per i play-out stanno facendo punti e se non stiamo attenti ci risucchiano. Quindi, ripeto, l'obiettivo primario deve essere quello della salvezza, poi vediamo, insomma, la strada facendo. Mese di febbraio probabilmente decisivo anche per voi? Assolutamente sì, mancano, insomma, in questo mese altre quattro partite. La prossima settimana affronteremo tre gare perché abbiamo il recupero. Quindi sì, credo che si cominci a delineare un po' una classifica definitiva e potremo anche noi, insomma, stabilire qual è il nostro obiettivo per fine campionato. Prosegue la risalita in graduatoria del Cerce Maggiore. Manolo Sacco, allenatore del Cerce Maggiore. Partiamo subito dal fatto che sette punti guadagnati nelle ultime tre partite che poi corrispondono alle tre partite del girone di ritorno. Nove i gol fatti, tre quelli subiti. Forse anche merito degli innesti fatti prima di Natale. Io direi soprattutto merito degli innesti. I numeri li stiamo riattrizzando rispetto alla prima fase del campionato. Per quanto riguarda la partita di oggi sono contento dal punto di vista del risultato un po' meno dal punto di vista della qualità del gioco sperando di poter dare continuità anche negli allenamenti. La partita contro il Roseto, mister, ha visto una scelta in attacco con pochi centimetri ma tanta velocità. Sì, diciamo che tra virgolette la partita la vogliamo interpretare sfruttando la velocità e la tecnica dei tre attaccanti e oggi ci ha detto bene perché tutti e tre si sono messi a disposizione e hanno fatto più che il loro dovere. L'ingresso di Carpinelli poi nel secondo tempo ha fatto venire fuori un ibeque, quindi un connubio tra i due forse molto azzeccato. Ma un ibeque che abbiamo visto in questo match che ha giocato dai primissimi minuti. Come mai questa scelta? Ibeque è un giocatore che se ci sta con la testa e ci mette voglia è un lusso per la categoria. A onor del vero c'è da dire che lui ha sfruttato molto le giocate di tedeschi a Uccelli perché hanno attratto l'attenzione dei difensori e lui ha avuto spazio per farmare all'avversario, complimenti a lui. Per quanto riguarda Carpinelli, io è dall'inizio che dico che è un giocatore dalle qualità tecniche importanti però deve dare anche lui continuità negli allenamenti altrimenti poi la scelta si fa dura. Abbiamo un'altra partita in casa con il Vulcania una partita ostica, una partita dura perché comunque giochiamo con una squadra che potrà dire la sua addirittura per salire in prima battuta. Noi la dobbiamo preparare sempre nel migliore dei modi sperando di poterci allenare su un campo regolare perché ancora ad oggi ci continuiamo ad allenarci in balestra e insomma si inchiozziamo negli allenamenti. Campionato di prima categoria in campo domani pomeriggio squadra comunque ostica come lo Stuni buon primo tempo, nel secondo tempo avete sofferto nel momento peggiore vostro avete trovato il gol che poi vi ha risolto la partita. Sì è stata una partita veramente poco lucida da parte nostra perché sapevamo l'importanza di questa partita e diciamo tutte le chiacchiere da bar che si sono fatte nella settimana che l'ha accompagnato. Venivamo da due sconfitte e la classifica era un po' peggiorata e quindi ogni pallone pesava un po' oggi però abbiamo dimostrato grazie anche al capitano che è inutile nascondere la risulta lui la partita insieme a lui poi abbiamo ottenuto questo risultato fondamentale. Bravi a non perdere la concentrazione sull'1-0 poi avete avuto anche il rigore contro che se entrava dentro insomma poi c'è sempre il capitolo al SWAT che vi garantisce sempre molti punti. Certo, io dicevo in banchina oggi i Sari possono segnare solo a portavota perché anche lui dopo il rigore è veramente che ha buttato giù la saracinesca e ci ha dato una grandissima mano. Queste penso siano le partite fondamentali di una stagione perché nonostante noi non abbiamo dato quello che diamo di solito in allenamento o in altre partite siamo riusciti a portare a casa un risultato che ci fa morale perché adesso arriva un filotto di partite veramente importante. Andiamo proprio al futuro prossimo non potete neanche festeggiare tanto perché mercoledì arriva il Barletta. Sulla carta la partita sembra chiusa però un conto è la carta e un conto è il campo. Sì, alla fine Barletta è una partita dove non è quella la partita magari che ci può condannare o ci può far volare perché comunque è una partita che solo noi dobbiamo recuperare quindi andiamo lì tranquillamente senza paura di magari di sbagliare perché può essere veramente soltanto un trampolino di lancio magari per tre punti in più importanti. Calcio Balilla, Valerio Stinziani e Nicola Grigoli hanno vinto la tappa di Trivento del torneo itinerante di Calcio Balilla organizzato da Trivisonno, Biliardi e Giochi 12 le squadre a contendersi la tappa presso la sala giochi il ritrovo. Nuoto verranno chiuse sabato le iscrizioni per prendere parte al settimo trofeo M2 in programma il weekend del 18 e 19 febbraio appuntamento al centro M2 di Campo di Pietra con ospite d'onore Walter Bolognani responsabile tecnico delle nazionali giovanili basket di Serie B galvanizzati dalla vittoria con il Rimini il Globo Isegna prepara il derby di Venafro Sebastiano Manetti paura alla vigilia ma alla fine ne siete usciti bene. Sì abbiamo fatto una buonissima partita contro una squadra che ci precede in classifica non era facile perché loro sono in un ottimo momento siamo stati veramente bravi e dopo tre partite giocate così e così contro le prime tre della classifica ci voleva una vittoria di questo tipo. Certo far due punti contro il Rimini era importantissimo. Sì assolutamente sì perché comunque è la prima come ti dicevo prima la prima squadra che troviamo dopo le prime tre classificate quindi era importante subito fare risultato specialmente visto che giocavamo in casa. Quali sono gli obiettivi attualmente? Beh cercare di vincere le più partite possibili adesso ci aspetta il derby domenica prossima a Venafro sarà una partita molto complicata perché loro sono rinforzati molto però noi dobbiamo cercare di fare un'ottima settimana di allenamenti e andare a Venafro con l'idea di provare a strappare due punti. Simone Seria è arrivata a questa vittoria importante? Sì è stata una grande vittoria ce l'abbiamo messa tutta sapevamo che dovevamo mettere due punti in tasca e ce l'abbiamo messa tutta una gara di grande energia e alla fine è arrivato il risultato ce l'abbiamo fatta. Una squadra con cui avevate vinto di un punto all'andata? All'andata in casa loro a Rimini è un campo molto difficile anche lì abbiamo fatto i salti mortali con Norcino che ha messo un canestro allo scadere e ce l'abbiamo fatta ma qui credo che la figura sia stata molto migliore. Vedo che oggi sia stato un atteggiamento più che positivo Sì e come dicevo prima ce l'abbiamo messa tutta dovevamo prenderci due punti perché abbiamo fatto male in alcune gare avremmo potuto rubare qualche punto in più e finalmente stasera sono arrivati i risultati che ci aspettavamo. Montanbike sono aperte le iscrizioni per prendere parte alla terza edizione della gara di Cross Country in località Fragnete di Isernia la società Pentria ha in collaborazione con il main sponsor Viscovo anche quest'anno organizzato la gara di Montanbike in programma domenica 26 febbraio previsto un circuito di 28 chilometri. Bene è tutto per questa edizione del nostro TG Sport Buon pomeriggio!